Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare, tra le ultime uscite, dell'ambientazione di Sienerequie, che sono Cacciatori di Morti, per un'ambientazione, forse per quello che viene citato, ma lo vedremo nel corso del video, prettamente Sanctum Imperium, ma comunque sono Cacciatori di Morti in tutta l'ambientazione di Sienerequie, quindi in tutto il mondo conosciuto, e di qua Gladiatori che rivede invece la parte prettamente russa e del Soviet di Zar. Come sempre ragazzi, spettacolo, non ve l'ho mai nascosto veramente, è il mio gioco di ruolo preferito, ve l'ho sempre detto perché hanno avuto un'idea spettacolare, ma ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Di proprietà della Serpentarium, questa nuova edizione di Sienerequie, di cui vi ho già fatto vedere il manuale base, ma poi sicuramente registrerò anche qualche partita, perché vorrei fare una partita con gli amici su Tabletop, registrarla e portarvela, ma non solo a questa, anche a tutti gli altri GDR che ho ricevuto, e voglio ringraziare il Curte, grazie davvero di cuore, per avermi offerto questi due manuali appunto per sapere cosa ne pensassi, perché me li ha dati da amico senza nemmeno chiedermi, mi ci fai una recensione, magari leggili, mi fai sapere cosa ne pensi, e ovviamente lì ci faccio un video. Allora, partendo dal primo, vi faccio vedere, o poi ve li faccio vedere aperti, due parolini spendendoci, spendendoci, Cacciatore di Morti inserisce la figura, non che mancasse, perché viene già citata nel manuale base, comunque nella nuova edizione la figura del Cacciatore di Morti, perché, citando appunto il massimo degli esempi che trovate qui, sono nell'ambientazione, tra i mila virgolette italiana, nel Santo Imperium, del Cacciatore di Morti, che è l'unico autorizzato a portare delle armi. Non si parla di una roncola, una cetta, una spada, che già comunque sono vietate, perché sono sempre armi bianche da taglio, però possono tutt'al più essere concesse boscaioli e cose del genere. Qui invece sono gli unici che possono portare armi da fuoco, perché nel Santo Imperium nessuno, nessuno è autorizzato a portare un'arma da fuoco, se no la polizia del papato, la polizia, l'excubitore, mi sembra si chiamassero qualcosa del genere, se vi trovano vi arrestano, perché nessuno è autorizzato a portare delle armi da fuoco, nel Santo Imperium. Non le portano, ad esempio, se vi ricordate, nemmeno i Templari, di quelli che mi piacciono a morire, il Curti mi ha regalato un posto, e che poi vi farò vedere, che sono quelli giganteschi, sembrano delle specie di Space Marine, con l'armatura da Templare, e con la spada, con la motosega, che sembra un po' la spada catena, appunto, delle Space Marine, è proprio per questo che mi garbano doppiamente. Quindi loro sono stati autorizzati, hanno un foglio di via, e in questo foglio di via c'è scritto che loro sono autorizzati, in quanto cacciatori di morti, quindi vanno in giro a ammazzare morti, a ripulire il Santo Imperium, a portare armi da fuoco. Ed è bello perché c'è tutta la storia di queste bande autorizzate che hanno questo foglio, bande false, che il foglio sono solo fatti per conto loro, o bande ancora più false e meschine che si fingono a cacciatori di morti, ma che il foglio non lo hanno, perché i cacciatori di morti sono visti un po' con paura dalla gente del Santo Imperium, dalla popolazione, perché quando arrivano loro vuol dire che c'è un problema. Perché se un gruppo di cacciatori di morti vi arriva nel vostro villaggio, vuol dire che hanno una missione, magari mandati dalla chiesa, che devono liberare da zombie o cose del genere. Quindi magari rimarranno lì un po' di tempo. Rimarendo lì si faranno dare da mangiare, verranno trattati come re, perché poi fanno un po' il bello il cattivo tempo, ma tante volte è successo che stuprano le donne e le ragazzine, perché ci sono tante bande di cacciatori di morti che sono un po' meschini, per non dire altre parole. Quindi è gente che quando arriva in città, un po' come The Witcher, quando arriva in città, oh, finalmente è arrivata a risolverci il problema, però poi pensandoci, c'è Geralt di Rivia in città e ti viene un po' la paura perché fai, sei arrivato un Witcher qui, vuol dire che ci sono problemi, ora speriamo che non rompa le scatole, non faccia, più che altro non dia problemi alla quotidianità. E quindi sono visti un po' come figure, sì, rispettate, ma allo stesso tempo anche temute. Ed è bello questo manuale perché vi spiega vita, morte e miracoli di questi cacciatori, vi dà anche nomi di personaggi importanti e influenti, di bande importanti e influenti e vi dice anche come funziona nel caso perdano questo foglio che è la parte che l'ho apprezzata forse di più perché se uno perde questo foglio non ci può essere una ristampa, siamo in tempo di fotocopie al tabacchino, quindi perdendo questo foglio bisogna andare alla Santa Sede, quindi a Roma, per chiedere di farsene fare un altro dal Vaticano. Però non è che va lì scusate, sono un cacciatore di morti, me lo rifate per favore, no, ti devi portare dietro due padri confessori o qualcosa di genere, insomma due preti, te le devi portare dietro che loro attestino e confermino che te sei un cacciatore di morti e che ti devono rifare il foglio, quindi loro attestano la verità. Se stanno citando invece qualcosa di farloco o comunque falso, verranno anche loro due a volte arrestati, no, a volte sempre, arrestati e magari nel caso anche giustiziati davanti alla Santa Sede. E quindi si devono ammettere, se è una cosa fatta a livello, come vi posso dire, di sotterfuso per avere un documento che non vi spetta, si rischia veramente di perderci la testa. Ed è molto bella come ammettazione perché appunto questi cacciatori di morti sono una figura molto importante, mi hanno ricordato veramente Witcher, però allo stesso tempo temuta e tenuti un po' a distanza. Passando in quest'atto invece gladiatori è tutto quanto ambientato nel Soviet, nelle città formicaio gestite dall'intelligenza artificiale che è ZAR perché sapete che a fine della guerra, recitandovi velocemente la guerra che poi vi farò vedere nel manuale anno zero che a breve tra l'altro acquisterò perché è bellissimo e vi consiglio per sapere tutta la storia di Sienereque, durante operazione Overlord lo sbarco in Normandia si sono risvegliati i morti, proprio durante lo sbarco in Normandia e quindi la Germania non c'è stata operazione Market Garden sono saltate le Ardenne voi fate conto che dal momento dello sbarco in Normandia quando le truppe americane hanno messo piede sulla spiaggia di Omaha si sono risvegliati i morti e quindi la guerra è stata persa dagli alleati e i tedeschi con il Quarto Reich che hanno tirato fuori il Quarto Reich si sono arrogati il diritto e appunto la vittoria della Seconda Guerra Mondiale e dopo tutte queste cose che sono successe ovviamente diciamo che i nazisti non comandano il mondo in questa ambientazione perché ogni nazione ha il suo impero tipo in Italia c'è il Santo Imperium in Giappone c'è il trono di Crisantemo in Egitto addirittura si sono risvegliati i faraoni e siamo ritornati ai tempi dei faraoni quindi delle cose disumane e invece in Russia hanno creato questa intelligenza artificiale chiamata Azzar hanno creato delle città formicaio sotto terra perché sopra non si può più vivere perché è venuto un gelo disumano e la gente morì di freddo e soprattutto ci sono i morti che i morti in sine requie Dio benedica Kurt e Moro e tutti quelli che ci hanno lavorato non sono quelle di The Walking Dead ragazzi uno zombie inventati non vi dico da Romero ma comunque resi famosi da Romero gli zombie non vengono uccisi con un colpo in testa Walking Dead pugnalata nella gola lo zombie muore lama così di coltello ma non ci arriva nemmeno al cervello quindi voglio dire una freccia di Daryl nel cervello e lo zombie muore lo zombie è morto lo zombie non può morire cioè perché è già morto è appunto non morto e quindi non lo puoi uccidere uno zombie non lo puoi fermare in sine requie se voi distruggete uno zombie li staccate la testa il corpo continua a venire avanti se voi distruggete completamente uno zombie e rimane metà mano con le dita ancora attaccate vi seguono nei film di Romero per distruggere uno zombie lo dovete smembrare bruciare carbonizzare ed è questa la cosa bella di sine requie perché quando voi trovate uno zombie se fosse stato The Walking Dead gli sparo un colpo in testa fa il tiro per colpire ok colpita la testa preso morto vai morto lo zombie qui no perché anche se lo zombie gli staccate la testa non vi può più mordere e magari gli staccate le gambe non può più camminare magari in un secondo momento che vi sta seguendo vi strapperà la carne con le mani che le sono rimaste cioè è veramente truce e in questa ambientazione del soviet per evitare questo problema hanno fatto queste città formicaio e sottoterra e in questa ambientazione di gladiatori vi fa vedere tutte quante appunto queste figure buttate nelle arene di gladiatori per vari motivi c'è chi come al tempo dell'antica Roma c'entra volutamente o chi c'entra per crimini e mano a mano che combatti per mostrarti a Zar vai avanti in queste classifiche gladiatore arriva a un certo punto che Zar in persona con la sua polizia gli NKVD si dovrebbero chiamare la polizia russa ti contattano ti prendono e ti portano il cospetto di Zar per darti tutti quanti i meriti che sei diventato un grande gladiatore e i gladiatori in questa ambientazione quindi i soviet sono trattati come eroi e divinità hanno donne hanno prostitute hanno magari anche mangiare vitto alloggio possono fare una doccia regolarmente tutti i giorni hanno cose che gli operai del soviet se le dimenticano però c'è un malus quando Zar ti chiama è per farti un dono un dono che da molti è visto come la prova suprema di dimostrarsi agli occhi del supremo leader che a puntezzare l'intelligenza artificiale ma allo stesso tempo è una maledizione perché ti innesta dei pezzi biomeccanici che potrebbero essere che ne so una mascella dentata tipo a tagliola oppure un braccio con che ne so con una forca per tagliarti la testa oppure qualcuno ha ricevuto qualcosa di più grande ad esempio come tagliato dalla vita in giù staccato le gambe e l'hanno attaccato su un cingolato con le ruote chiodate ti diventi una macchina ed è talmente macabro che io questi qui della serpentarium qualche volta non lo so chiamola un euro per davvero li faccio rinchiudere al cotto lengo tutti e due grandissimi tra l'altro mi ci trovo stra bene con loro perché cioè ci sono storie di gladiatori dove a uno ad esempio hanno messo due impianti idraulici e una mascella dentata per appunto per essere un gladiatore come benedetto ad azar con questi pezzi di armi che al confronto del caos di warhammer non c'hanno nulla vanno ad armare col coso col costume e la cosa brutta è che però per farle funzionare deve attaccarci dei motori quindi uno di questi non solo non poteva più mangiare né bere ma neanche parlare e dovevano dargli da mangiare dal naso perché non c'hava più la bocca dal naso con una cannuccia che gli scendeva in gola per dargli da mangiare al gladiatore per avergli montato sta mascella del cavolo ma soprattutto gli hanno attaccato per fargli funzionare tutte queste cose un motore a carburante a diesel sulla schiena quindi quando lui si sbilanciava rischiava di cadere all'indietro era talmente tanto il peso che gli strappava e gli comprimeva la cassa toracica quindi delle cose assurde quindi quando questo gladiatore finiva per terra qualcuno doveva entrare velocemente in campo e rimetterlo in piedi perché iniziava a tossire sangue perché gli spaccava la cassa toracica cioè ci sono delle cose veramente ragazzi raccapriccianti raccapriccianti in questo modo da farvi dire il vomito al confronto Stephen King è un apprendista dell'horror scusa maestro e quindi c'è delle cose veramente bellissime ragazzi sono due manuali che non vi devono mancare assolutamente e c'è dentro della roba della roba stupenda perché io vi dico che Sinede Equi è il mio gioco di ruolo preferito perché detto sinceramente come ho già detto anche appunto ai creatori soprattutto al curte a livello di regole a me non piace giocare con le carte i tarocchi non lo nego se fosse stata una versione di Sinede Equi con i dadi avrei comprato quella non mi piacciono le carte non so mescolarle non le so mi cascano di mano non mi piace giocare con le carte mi riesco a tirare dadi e quindi a livello di regolamenti ma regole di gioco preferisco altra roba ma a livello di ambientazione ragazzi no secondo me è la cosa più intelligente geniale unica e coraggiosa perché si tratta si toccano anche argomenti blasfemi ci sono spesso bestemmie velate c'è tipo stupri c'è razzismo all'interno di questi manuali c'è tutto infatti in prima pagina di tutti i manuali c'è sempre il sito ragazzi se pensate che questo regolamento possa essere troppo toccarvi o causarvi dei problemi non lo comprate c'è proprio scritto all'interno non comprate questo manuale tanto quando lo sfogli in fiera lo vedrai o non è che lo vedi uh bello lo compro guarderai un po' cosa c'è dentro tutti i temi che nel 2020 suggerisce giusto messaggiamente mia moglie si sprecano perché poi vi immaginate la parola di una persona di colore detta per spreccio in un manuale ambientato in seconda guerra mondiale che ci sta romperebbe sicuramente le scatole a qualcuno ma poi comunque non sono politicamente corretti questi manuali per niente però è roba ovviamente reale quindi in un'ambientazione del genere ci sta non puoi essere in un mondo post apocalittico e lanciare rose e fiori no è schifo cacca per non dirette parole perché poi mi leva la monetizzazione al video è quindi un manuale molto cattivo e viene fatto l'esempio dare colpa a questo manuale di creare razzismo e cose del genere è un po' come dare colpa al risico per farvi l'esempio di creare guerra nel mondo oppure al monopoli di dare troppo potere e soldi lo schifo magari di comprare società comprare strade insomma classico monopolizzare un posto quindi voi non potete dare comunque contro a un gioco perché un gioco è un gioco che possa essere anche il gioco col contenuto più cattivo di questo mondo e qui ci siamo siamo a metà strada ma è un gioco quindi alla fin fine dovete trattarlo come tale io ringrazio Kurti per avermi offerto questi due manuali se li volete comprare vi lascio il primo link in descrizione dal sito della Serpentarium e ragazzi è roba disumana come vi dico sempre provatelo se siete amanti della seconda guerra mondiale ma neanche tanto perché poi alla fin fine il mondo è andato avanti siamo nei 57 ma soprattutto di horror e giochi a tema zombie apocalittici ragazzi per me di meglio non troverete fatemi sapere un po' cosa ne pensate ciao ragazzi alla prossima